Ciao a tutti, ancora da Hanoi, Vietnam. Oggi parleremo di coffee, perché Vietnam è il secondo paese del mondo che ha fatto coffee. Ora proviamo in questo bar, in questo coffee shop, per vedere se si può fare un prodotto originale Vietnam. Quindi, per favore, seguite. Seguite, dovremmo andare fuori. Qui siamo, anche il coffee è qui, perché ho già ordinato. Come potete vedere, è molto scuro e forte. Sì, è molto forte. L'unico problema è che non portano le macchine vietnamese. Ma, fortunatamente, ho ricevuto come un dono, quindi posso mostrare a voi come potete fare questo tipo di coffee. Quindi, per favore, seguite. Ora andremo a casa per preparare il vietnamese coffee. Qui siamo. Questa è la macchina di coffee, il vietnamese. Abbiamo tre filtri. Uno lo mettiamo nella coppa. L'altro lo mettiamo sull'altro filtro. E questo filtro, dopo aver messo il coffee, lo mettiamo dentro la coppa. Questa è il litro. Ma, per favore, venite qui. Ora vi mostro a voi come potete fare il vietnamese coffee. Quindi, mettiamo questo. Abbiamo messo i primi due filtri nella coppa. Ora mettiamo dentro la coppa. Tre teaspoon di coffee. E, dopo, fermiamo con l'altro filtro. Lo chat. Seguite un po' di acqua. Prepariamo il coffee con l'ultimo filtro. E ora mettiamo una acqua calda sul filtr. magari un inizio di acqua e dopo 10-50 secondi possiamo aggiungere la capa. Il caffè, semplicemente semplicemente, è fallendo nella capa. Il nostro caffè sarà pronto in 5-10 minuti, ma per un buon caffè possiamo anche aspettare 10 minuti. Dopo 10 minuti il nostro caffè è pronto, proviamo! Molto forte, bello! Ok ragazzi, ricordate di iscrivervi al canale, di lasciare un like e di guardare gli altri video. Ciao, ciao! Se andate in Vietnam, provate perché è molto buono, se non, potete provare a fare un tom. Ciao!